Monza Rally Show 2015 con Rachele Somaschini Rachele, una tantum dal sedile di sinistra il pilota a quello della navigatrice allora com'è questa esperienza qui a Monza? Ho fatto la prima volta a fare la navigatrice, è stato alla Ronde Vedovati ed è andato tutto liscio, mentre in questo Monza Rally Show non sta andando proprio tutto benissimo e ho sbagliato un paio di cose, però ovviamente purtroppo capita però io amo guidare, è proprio una passione che ho ereditato da mio papà ed è un mio caro amico che è Arturo Merzario e soprattutto faccio cronoscalate poi ho conosciuto delle persone, io vinco nella ricerca, che mi stanno dando una mano ad inserirmi nei rally e anche grazie al pilota Nicola Novaglio che mi stanno dando due dritte per riuscire a farcela perché dietro c'è un allenamento molto duro per riuscire a reggere i ritmi di questo sport un po' difficoltoso Ecco allora io vinco nella ricerca, ricordiamo lo slogan della Fondazione per la Fibrosi Cistica due parole anche su questo tuo impegno Sì, io sono testimonial della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica poi ci sono delle associazioni collaterali che appunto una realizza i sogni dei malati di fibrosi Cistica perché io sono affetta appunto da questa malattia e che è un sogno per vincere poi c'è anche io vinco nella ricerca che è un trofeo molto bello si sta insieme per divertirsi e soprattutto per fare del bene quindi non c'è di meglio, Lino Sommavilla è stato molto gentile, mi ha invitato ho fatto quest'anno al Jolly Rally la prepista perché a correre non ce la facevo subito devo allenarmi un po' il prossimo anno spero di fare anche il trofeo delle merende